Oggi è la voce del Sud che dice che vuole politiche diverse da questo governo, un Sud che si sente abbandonato, che ha bisogno di investimenti, che ha bisogno di sviluppo, che ha bisogno di lavoro, che ha bisogno di fare una lotta forte contro l'andrangheta, quindi noi vogliamo dare anche un messaggio di fiducia e di speranza, oltre che rivendicare scelte che sono state sbagliate dal governo sui temi economici e finanziari. Bisogna fare un'iniezione a salari e pensioni e soprattutto bisogna dare la risposta ai giovani in Calabria, giovani che se ne vanno, noi perdiamo 15.000 giovani all'anno e quindi abbiamo necessità di dare a loro le risposte, così come ai tanti disoccupati. Noi abbiamo mezzo milione di disoccupati, abbiamo un tema grande come quello infrastrutturale a cui va messo mani, bisogna lavorare sulle grandi opere che riguardano la 106, l'elettrificazione della Ionica alla luce di quello che è avvenuto anche in questi giorni con le ferrovie, bisogna puntare sull'alta velocità, bisogna connettere la Calabria con il resto del paese e con il resto d'Europa. Scende in tre piazze, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria per dare voce a chi non ha voce. Oggi bisogna puntare su politiche di sviluppo, su politiche del mezzogiorno, bisogna rispondere con investimenti pubblici e privati, bisogna dare risposte ai giovani e bisogna soprattutto sostenere il reddito delle famiglie perché con l'inflazione non ce la fa più ad arrivare a fine mese. In questo momento serve una grande piano per il lavoro, per il mezzogiorno, un mezzogiorno che è scomparso dall'agenda politica di questo governo. Il Sud ha bisogno di risposte perché è completamente abbandonato. Ma noi sulla Calabria abbiamo posto alcune questioni che riguardano priorità, come gli investimenti, come le infrastrutture. Avevamo detto che dovevamo puntare sulla 106, sulla elettrificazione della ferrovia ionica e sull'alta velocità. La risposta del governo è il ponte sullo stretto, cioè noi continuiamo a vedere morti tutti i giorni sulle nostre strade e anche nelle ferrovie e il governo risponde col ponte sullo stretto. Abbiamo bisogno di altro, in questo momento abbiamo bisogno di mettere in connessione la nostra regione e abbiamo bisogno soprattutto di lavoro di qualità. A noi non serve il lavoro povero, non serve il lavoro sottopagato. I giovani se ne vanno dalla Calabria perché manca un lavoro di qualità. Ecco, bisogna fare un grande piano di investimenti per il mezzogiorno e per la Calabria che è l'ultima regione d'Europa purtroppo.